... Non credo ci sia più un Tirit. Continua per bene. Insomma, ormai è parte di Ultimo. Tony, quante sono le probabilità che Ultimo non stia più prendendo ordini da Lime che sia completamente indipendente ed omicida? Non possiamo saperlo finché non mi ucciderà. Eh? Cosa? È quello che farei io. Ucciderei l'unica persona che può fermarmi. Specialmente dopo che abbiamo disattivato la sua piccola barchetta per i... Non sono mai riuscito a costruirlo. Neanche un prototipo. Tony, ma ti ha dato di volta il cervello a usare il pianeta per uccidere persone? È quello per cui i tuoi superiori mi pagarono. Come ho promesso a Jensen, passerò il resto della mia vita a rimediare ai guai che ho compiato. Telaio di ultimo rilevato. Massa approssimativa a 200.000 tonnellate. Che casino, Tony. Già, credo che l'abbiamo fatto arrabbiare. Isoliamolo. Portalo da noi. Cerchiamo di ridurre al minimo i danni collaterali. Lasciamo che ci trovi. Capito? Falla facile, ma non troppo. Questo è il piano. Riportarlo agli archivistati e poi spegnerlo. Jarvis, accendi i reattori in fondo all'archivio. Ultimo a fame. Mettiamo fuori la cioccolina con il latte. E se non funzionasse, non importa, saremo morti.